Ci è arrivata una richiesta dalla Società del Calcio Napoli per poter fare gli allenamenti. Il Presidente Laurentiis mi ha mandato una lettera con la quale mi sollecita in questo senso e propone una ipotesi di lavoro che a me pare estremamente interessante, cioè la ripresa di allenamenti, sapete che lo sport e anche gli allenamenti per le attività sportive di massa, di squadra, non sono previste dal decreto nazionale. De Laurentiis mi dice che possono fare gli allenamenti avendo tre campi di calcio disponibili a Castelvolturno, possono fare gli allenamenti avendo un distanziamento anche degli atleti di 20 metri, ci sono gli spazi. Possono fare gli allenamenti per fasce orario, senza l'uso comune delle docce, con il trasporto individuale di ognuno di loro. A me pare che ci siano tutte le condizioni per consentire gli allenamenti della squadra del Napoli. Ho detto al Presidente Laurentiis che ovviamente avremmo valutato con grande serietà la sua richiesta, la sottoporremo alla task force, alla parte sanitaria, ma io sono convinto che se vengono garantite, come il Presidente ci ha anticipato, tutte le norme di sicurezza, credo che sia ragionevole, che nel momento in cui apriamo i cantieri, apriamo le fabbriche sulla base di protocolli di sicurezza, il Presidente Laurentiis garantisce anche la ripetizione del tampone ai giocatori, ai collaboratori due volte alla settimana, credo ovviamente che abbia interesse anche il Presidente a tutelare la sua squadra, quindi a non avere problemi. Allora io credo che noi, ripeto, sulla base di una valutazione che farà comunque la parte sanitaria della task force regionale, siamo in condizione di consentire gli allenamenti del Napoli Carcio, per fare in modo che la squadra sia pronta. Poi decideranno le autorità nazionali, le autorità sportive, sulla ripresa o meno del campionato, a porte chiuse e quant'altro. Questo non dipenderà da noi. Per quello che riguarda la Regione, credo che ci siano le condizioni per consentire l'allenamento della squadra, cioè per consentire che in caso di ripresa di attività sportiva la squadra sia pronta. Mi pare che possiamo muoverci davvero in una ipotesi razionale e di totale sicurezza per quanto riguarda la squadra e anche i collaboratori.